Il 2023 inizia con un boom di visitatori al Museo di Cabras e a Tarros. 2.900 i biglietti staccati tra il Museo Civico, l'antica città di Tarros e la Torre di San Giovanni, con un aumento di oltre il 52% rispetto al gennaio 2022 e del 63% rispetto allo stesso mese del 2020, ultimo dato pre-pandemia. Un dato che conferma l'attenzione dei visitatori per la storia antica e le proposte del Parco archeologico naturale del Sinis. Intanto, con l'approvazione della legge finanziaria regionale, salgono a 23 milioni di euro reperiti dalla Fondazione per il sistema Cabras-Sinis in appena 14 mesi, attraverso programmi europei, statali e regionali. Si tratta di 10,5 milioni di euro destinati a lavori pubblici e infrastrutturazione del museo e dei siti archeologici, 2 milioni per i nuovi scavi e le campagne di restauro e 10 milioni per attività legate alla promozione e alla comunicazione. I fondi ordinari, circa 1,2 milioni all'anno, verranno invece utilizzati per le spese di funzionamento, dipendenti, collaboratori e cooperativa di gestione, manutenzioni e utenze e programmi di didattica.